Uh ma che delizia la signorina Ash la devo assolutamente andare a regalare a uno di voi che mi segue sempre Si guarda ogni mio video dall'inizio fino alla fine è proprio il turno del signor Proch 2009 Perciò let's go e ovviamente è iscritto al mio canale con la campagna attiva e droppa sempre un bel hack furbetto sotto tutti i miei video Buon divertimento con questa skin E se ti piacciono questi video il supporto è un creatore più bello, più fresco, più croccante del centro Italia Only one code R4 Finalmente ieri è uscito il nuovo giornamento di Fortnite ed oggi abbiamo un compito importantissimo Dobbiamo andare a prendere entrambe le due armi nuove, le due nuove armi esotiche E noi abbiamo un piccolo trucchetto se ci dice bene, qui già sto vedendo una bordata dei playerini Dovremmo atterrare qui a scogliere scusciese perché se siamo fortunati Si, buoni buoni buoni, c'è il signor Passion davanti a noi Let's go, salve signore, eccolo qui Dispositivo di lancio quadruplo a raffica Quanto costa? 10 mila, ah no, 10 mila sono i nostri soldi Lo andiamo a prendere, ci dà anche colpi? No, non ci dà nessun colpo, maledizione Ma noi comunque abbiamo otto razzi, non sono affatto male E ora dovremmo trovare, se siamo sempre fortunati, l'altro NPC Nel mentre già sto sentendo che qualcuno sta sparando Che dovrebbe essere la signorina, il medico Vediamo se sulla mappa appaiono di nuovo i tre puntini Ma non credo che siamo così fortunati Comunque alla fine si trovano qua vicino Già sta sparando qualcuno Io ancora non ho provato questa nuova arma esotica So che è fortissima perché comunque si tratta di un mega lanciarazzi No, ovviamente non c'è nessuno Non c'è il secondo NPC Quindi questo ci fa capire che ovviamente lo dobbiamo andare a trovare dall'altra parte Va bene, allora noi facciamo un mega fugone Ce lo dobbiamo assolutamente andare via da qui Perché dobbiamo raggiungere Vediamo se ce lo facciamo tutti in un game Ma sarebbe epico, ok? Non così, questo qui è un epico finito male Dobbiamo farci 400 metri Togliamo la musica copyrightata Non vogliamo copyright Occhio, andiamo piano Belli tranquilli Perfetto, perfetto, perfetto Attraversiamo il fiume 300 metri E stiamo per andare a vedere se ufficialmente ci stanno sparando Signor taxi può aumentare il livello Oh, non ci prendono Perfetto, ok, sì, ci stanno prendendo Mamma mia, ma quanto è brutto questo taxi sopra l'erba Corra, corra, c'è la strada Ma quanti sono a spararmi, scusate, eh Andiamo a parco Alla sinistra di parco Pacifico ci dovrebbe essere l'infermiera Qui c'è un altro playierino sulla sinistra Occhio, dovremmo essere arrivati E dovrei già intravedere qualche punto Ti prego, dimmi che ci sei No, ma qual è la casa dell'infermiera? Ah, è qua sopra, è qua sopra, è qua sopra È esattamente quella Dovrebbe avere il nuovo bazooka Sì, c'è regà, è ufficiale Ma quanto l'ho pagata alla fine il lanciarazzi quadruplo? Noi avevamo 110.000 lingotti Ce l'abbiamo, 9400, l'abbiamo pagato 600 Beh, costicchiano, costicchiano Ma almeno stiamo sprecando Siamo utilizzando i nostri lingotti per una buona causa Salve signor medico Lei ha qualcosa Cannone da bevute? Oddio, pensavo si chiamasse tipo Bazooka, Slarp Bazooka Vediamo se ufficialmente ci dà Oh, 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 oh Golosissimo Abbiamo 100 di shield e 100 di vita Golosi Questa è un'arma OP Questa è ultra OP Ok, ma ora, dato che ci siamo fatti lo shield È arrivato il momento di andare a provare questo bazooka Anzi, prima facciamo una cosa Testiamolo No, in realtà dovremmo anche prendere dei colpi Perché non è che abbiamo tantissimi colpi No, 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 non spreco gli 8 colpi Perché altrimenti poi finiscono subito Dovremmo andare a caccia di playerini e avversari Ma a caccia anche di missili Che riforniscono questo bazooka Se voi sapete dove trovare i missili Iscrivetemelo qua sotto all'interno dei commenti Così magari all'interno del prossimo video Che ovviamente uscirà domani Già sono più pronto E vado a prendere altri Aia Qualcuno mi ha sparato Ci hanno sparato Ci hanno sparato Aia Bazzooka bende C'è bazzooka Oh mio dio Prima che mi abituo Che bello Ehi la Signor Cosa? Accuccia Principessa Ok Non è tanto P Effettivamente Ah ma non ci prendo proprio io Ok L'abbiamo fatto saltare in aria Penso fosse un bottazzo Comunque Aspettate un attimo Devo capire esattamente Il funzionamento di questo Lanciagranate quadruplo Cioè il bazzooka è ultra oppi amici miei Ma non mi sembra tanto forte questo bazzooka sinceramente Devo provare magari a sparare meglio Perché stavo sparando per terra Se riusciamo a trovare magari due colpi delle ammo da lanciarazzi Ma sono difficilissime da trovare C'è un hardroppino là Da Ehi la Ehi la Smettete di sparare Signori Vi risparmio la vi Signori 42 42 Attivo Ma quanta mi dai? Cucciolino Ok 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 Mi rimangia quello che ho detto tre secondi fa È ultra oppi Ovviamente se spariamo al player Io prima stavo sparando da tutt'altra parte Come un faggiano fritto Ma questa è l'arma che mi piace di più È ultra oppi questo bazzooka slarp Io lo chiamerò così Abbiamo fatto già due kill belle succose Stiamo correndo come dei pazzi Non abbiamo fatto mazzo Non abbiamo fatto niente di niente Ma siamo fomentati da queste due nuove armi Armi esotiche Diamo un'occhiata Guardiamoci intorno Perché qualcuno ci potrebbe anche stunnare Però non vedo nessuno Andiamo ad aprire Lesgo lesgo Ti prego colpi E ok Ovviamente tutto Tranne che colpi che ci servivano Che tra l'altro Aspettate un attimo Perché qui a scogliere scoscese O meglio forse qui Ci dovrebbe essere il dinamitardo pazzo Quel tizio No perché ho sparato un razzo Quel tizio che dovrebbe avere tutti i razzi Come amo Vediamo se ci sono i tre puntini qui No non ci sono Perché si gira questo motoscafo? Perché è viola poi tra le altre cose? C'è 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 Regà forse ci siamo Forse ci siamo official Dovremmo Lui ci dovrebbe droppare dei colpi È vero Eh buonasera signor dinamitardo pazzo No ovviamente a tutto Tranne che i colpi Anche questo lanciarazzi Ma non ce ne facciamo niente Cioè guardate quanta roba qui Tra tutte le bombe del mondo Non ci sono i colpi Noi tanto ci ne siamo anche in safe Belli puliti Tanto con questo bazooka slarp Io lo chiamerò per sempre così Anche se effettivamente non si chiama così Stiamo trovando di tutto Tranne che i nostri bei colpi Signor bazooka Faccio il suo lavoro Mamma mia Quest'arma È ultra OP davvero Oh ma c'è un wolverine Selvatico Ma dove va? Cosa fa questo wolverine? Ma regà è un NPC? Ma cosa? Ma cosa è successo? È un NPC quel wolverine Regà Mi stava fissando Mi stava fissando e se n'è andato Ho anche un po' di paura Io me ne sto qui Bello tranquillo Perché tanto siamo Cioè Siamo protetti con questo Sparabazooka Sparaslarp O come si chiama lui? Signor wolverine Signor wolverine È qui? Dove diavolo era quel wolverine? Ci voleva fare un attentato Ci ha guardato malissimo Non so effettivamente Se si è accorto di noi Io ci facciamo un po' di mazzo Forse stiamo per scoprire Qualche segretino Qui va bene che c'è un bunker Non è che è uscito qualcuno Da questo bunker Non me lo dite Fa state fermi Nuovo punto di riferimento Col punto interrogativo Cosa è successo In questo luogo? Fort right Osco Ma che cosa? Ma questo è un bottazzo Ma questo? Ma nemmeno di chillo Nemmeno di chillo Wolverine Io me ne vado via E invece no Doppio lanciarazzi Ok Abbiamo altri Ah Un colpo Sono due razate Ora ho capito Beh non è male Un colpo due razate Non sono affatto male Best bottazzo wolverine Bombe fuori Wow Nice legacy Occhio Sette player vivi Amici miei Forse vi possiamo portare a casa Anche questo game Non ci posso credere davvero Primo game Con le due armi mitiche Eh sta uscendo una bomba Pesione salve Io le imploro Signor Pesione Mi dia dei colpi Mi dia qualcosa Non posso crederci Mi hai dato l'arma Ma darmi anche i suoi colpi Volevo fare Voglio fare altre kill Con quest'arma Cioè più che altro Non la voglio sperimentare Ma come facciamo Dai Ma non Cioè ci deve essere un NPC Che ti troppa Ah che per forza I colpi di questa Dei lanciarazzi Secondo me dovevamo andare per forza A idros Che paura Che hanno cecchino Cioè mi hanno dato una pompata Nelle orecchie Ma continuano a darmi pompate Nelle orecchie Dovrebbe essere Eccolo E la Calabrone Ti sei beccato Una bella pompata Eh non te l'aspettavi Occhio siamo Quattro player vivi Lì ci sono Ci sono un abbordale Di airdrop A dire il vero Io mi ricuro Ufficialmente Questa è l'arma VOP Ufficialmente Lo slarp Bazzuca Che vi chiamerò così Perché mi piace troppo Questo Questo nome Che a questo punto Gli ho dato io Occhio Stanno sparando Da una parte All'altra Qualcuna Chi l'ha Qualcun altro Secondo me Sono qua sopra Le carognette Vediamo Oh 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 Occhio mi sparano Mi sparano Dall'altra parte Della mappa Però Occhio Ma da dove Ma da dove Mi stanno sparando Da dove Ok 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 E qui davanti Official E qui davanti Official Ok però Andiamo a vedere Se è riuscito A dare qualche colpo Mi prego Mi prego No Hanno già sciagallato Tutto Oh Ma è venuto Qui davanti Verme maledetto E qui davanti A noi Occhio Oh Oh No Se avevo Il lanciarazzi Era un'altra roba Ma non sale Questo tizio Attenzione Cosa diavolo Sta facendo A fine di mazzo Non mi dire Ehi là Oh Ma Bottazzo Bottazzo Official Signorino Cioè non so Ok Probabilmente No Bottazzo Probabilmente No Sta buttando giù Tutto Probabilmente A fine Ma Cosa Un ultimo fight Un po Un po Un po Così Ma un po Così Ma io me la porto a casa Questo game Signor Bottazzo Io scendo E buonanotte No Sì Let's go Invece Così Ce la portiamo a casa Con entrambi le armi Esotiche Va bene Eppure Era senza colpi Ma non li ho trovati Amici miei Mi raccomando Inserite il supporto Ancora le più belle Più fresco Più croccante Del centro Italia Only one Fancode R4 Iscrivetevi al canale E attivate la campagna Notifica Troppate un bel like Furbetto Se ancora non l'avete fatto Ora vi lascio Due video Belli freschi Davanti al vostro schermo Quindi mi raccomando Cliccate di qua Oppure di qua Insomma Andate a vedere il video Che vi piace di più Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre news E Le stra Ciao